E' stato inaugurato a Fuorigrotta, siamo a Napoli, il più grande Eco Murales del Sud, un'opera in grado di assorbire ogni giorno lo smog grazie all'utilizzo di eco pitture, una tecnologia brevettata capace di eliminare l'inquinamento atmosferico. Si intitola Unlock the Change ed è il più grande Eco Murales anti-smog del Sud Italia. E' stato inaugurato a Napoli il 25 marzo, 370 metri quadrati curati dalla No Profit Urban 2030 e dalla B Corp con il supporto di Palomart che portano la firma dell'artista Zaduno. Questo Eco Murales ogni giorno assorbirà lo smog prodotto da 79 veicoli grazie all'utilizzo di eco pitture Air Light, una tecnologia brevettata capace di eliminare l'inquinamento atmosferico. Oggi siamo felici di supportare nella sua campagna Unlock the Change una realtà virtuosa come quella delle B Corp, ha dichiarato Veronica De Angelis, presidente e founder di Urban 2030. Il luogo scelto per la realizzazione di quest'opera non è un luogo come un altro, come sottolinea l'artista Zaduno. Si tratta di Fuorigrotta, un quartiere difficile che ha vissuto in prima linea i danni dell'inquinamento industriale nel XX secolo. A fornire la tela su cui è stata realizzata l'opera, la scuola secondaria di primo grado Silio Italico. Quest'opera non nasce in un luogo qualsiasi, prosegue De Angelis. La scelta di una scuola è fondamentale per lanciare un messaggio di cambiamento ai giovani e per trasmettere i valori dell'agenda 2030 ai cittadini del futuro. La scuola media Silio Italico, insieme al suo dirigente, non solo hanno messo a disposizione il muro su cui è stato realizzato l'Eco Murales, ma hanno anche collaborato attivamente. Professori e studenti, infatti, sono stati coinvolti in laboratori creativi, che hanno dato vita alle lampadine del cambiamento, stimolando così una riflessione collettiva intorno al tema di Unlock the Change. Napolet è un paese curioso, è un teatro antico sempre aperto. Edoardo De Filippo Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS